Raggio a domicilio per pazienti fragili, non deambulanti o in isolamento domiciliare per Covid. La radiologia dell'ospedale della Gruccia attiverà infatti questo servizio sul territorio dalla prossima settimana, anche grazie ad una donazione del Calcit Valdarno che ha fornito un innovativo sistema digitale per l'acquisizione e la trasmissione delle immagini. È rivolto unicamente alle persone fragili, a pazienti oncologici, disabili o non deambulanti, malati di slale cui condizioni di salute non permettono il trasporto in una struttura ospedaliera se non sottoponendo la persona ad un grave disagio. Sarà anche da supporto alle USCA per l'erogazione di eventuali prestazioni radiografiche a domicilio, limitando così il trasferimento dei pazienti in ospedale ed il rischio della possibile diffusione dei contagi da Covid. A domicilio potranno essere seguiti così esami di controllo e monitoraggio. Grazie alle disposizioni di sicurezza e prevenzioni adottate secondo le vigenti normative, afferma Daniela Cardelli, direttrice delle professioni tecnico-sanitarie dell'Asla Toscana Sud-Est, le procedure di radiologia domiciliare attuate prevedono l'impiego di dosi limitate di irradiazioni e comportano così un rischio estremamente contenuto per pazienti, operatori, ma anche per la popolazione in generale.